Un incendio divampato nella strada di martedì 16 gennaio intorno alle 20 in via 7 martedì a Cornier. Le fiamme hanno avvolto una roulotte rivestita da bungalow con pareti in legno e tettoia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cornier, Ivrea e Rivarolo Canavese, la croce rossa di Castellamonte e i carabinieri. Pare che non ci fossero persone all'interno, ma le certamenti sono in corso. I vigili del fuoco hanno domato e spento le fiamme. La struttura che era in vendita è andata completamente distrutta. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!